Tra poco parlerete proprio del ruolo dei social network. Pure rispetto a questo tema possiamo condividere un ragionamento. Noi tutti dobbiamo stare attenti ad essere consapevoli nella gestione di uno strumento che può essere di formidabile impatto positivo, ma ha dei limiti, come tutti gli strumenti. E su questo serve essere responsabili. La responsabilità è proprio l'elemento caratterizzante del giornalismo, ciò che vi distingue e vi dà credibilità e attorevolezza.